Mi chiamo Michaela, ho 18 anni, ho due figli, da tre anni, un anno e mezzo, sono stata allevata dalla nonna, arrivata da Romania in Italia, ho conosciuto un ragazzo in un campo rom, siamo stati insieme, dopo sono rimasta subito incinta, sgomberato il campo, non sapevo dove andare, sono tornata in una comunità che mi hanno dato una mano e dopo sono stata, fino a quando ho partorito il bambino, fino a tre mesi, dopo siamo tornati in un campo rom con il mio ragazzo, ho avuto il secondo figlio, purtroppo era malato e non avevo soldi, non avevo possibilità, siamo tornati in una comunità, stiamo bene, sta bene anche il bambino, quando vanno a scuola cercherò anche un lavoro, mio ragazzo sta studiando, elettricista, ci preoccupiamo per il futuro.